La Fenice, il prossimo avversario dell'Enel Aspa, abbiamo il capitano Patrizio Stefanini. Come avete preparato questa partita in queste due settimane? Perché c'è stata anche la pausa dopo il girone di andata. Allora, la partita con la Fenice sarà sicuramente diversa da quella che abbiamo disputato all'andata. Uno perché la formazione è cambiata. Allora, hanno acquistato qualche giocatore nei ruoli dove erano più deficitari, quindi al centro. Poi hanno cambiato anche allenatore e hanno preso un ottimo allenatore che è anche il selezionatore delle regionali. Quindi ci sono un po' di aspetti da rivalutare. Noi l'abbiamo impostata come facciamo di solito, più su quello che dobbiamo fare noi, cercando di fare bene quel poco che sappiamo fare. Quindi da dimenticare, Patrizio, quel 3-0 che avete maturato nella gara di andata? Sì, credo decisamente che non sarà la stessa partita. Poi tutto col beneficio del dubbio, però credo che dal punto di vista tattico sarà differente. Una cosa è certa, la partita sarà davvero importante per quanto riguarda la classifica. Un classico scontro salvezza? Sì, sicuramente. Ci metterebbe nelle condizioni intanto di pensare solamente a chi sta davanti e non più a chi sta dietro. Perché nel caso in cui dovessimo prendere l'intera posta con i tre punti, andiamo a più 5 dalla diretta inseguitrice che è proprio la Fenice. E quindi poi si pensa solo a chi sta sopra. Al di là della Fenice, come sta l'Enel Asp in vista di questa partita? L'Enel Asp sta bene. Arriva da un giro in andata chiuso comunque con dei buoni risultati, a casa della terza in classifica. Quindi siamo carichi. L'unico forse assente sarà proprio il capitano Patrizio. Stefanini, come stai? Sì, sì, probabilmente sarò proprio io. Ho avuto un piccolo problemino a inizio settimana, però facendo controlli e a questo punto anche gli scongiuri del caso dovrebbe andare tutto bene. E' rientrato Brunelli, questo è un altro punto molto importante per voi? Beh sì, decisamente perché oltre alla bravura comunque del ragazzo ci permette anche di gestirci con tranquillità tutti i ruoli. Patrizio, partita decisiva? Quella di domani? Allora, per noi sono tutte decisive adesso, però sicuramente ci darebbe la rincorsa e lo slancio necessario per agguantare la sest'ultima.